Ciao Sandra, si chiamate Daphne. Come sono i compagni di noi, per noi conversare con Daphne. Abbiamo entrato con noi, per la prossima temporada di fine Aia e Daphne. Tei, junto con noi nel programma. Quanto vai buonoci? Buonoci, buon venire nel programma. Un bux, papo, brother, papo, tambi, ma di bravo, sta a gustar, Ari. E a buonan, tambi, te compagni di fine Aia e Daphne. Buonoci, buon venire nel programma. A noi, per la prossima temporada di fine Aia, che è arrivato il ultimo dia di fine Aia e Daphne. Conta, conta che emoziona. Buonoci, Lionel, buonoci, Sandra, buonoci. Buonoci, Natura Televidentes, Nandi, Canal 22. E noi, molto bene, stai qui presente. Grazie per la vostra presenza e per la mia parella Efraim. Daphne, per noi è un grande placer per la prossima, qui stai insieme a noi, presentando una canzone così buona, che stai sentire a voi, sì, Paz sta arrivando, mi piace per felicitare a voi e la mia parella Efraim. Daphne, molto bene, presenta, Rondipo, con una buona presentazione di una buona canzone qui. Contanos di, non so, mira, mentre tanto sta cantando un buon videoclip a Gowenon. Contanos un po' di produzione qui. Questa è una produzione qui guardo, è che non è una roba facile, ma con un buon contenitore. e non so stavo parlando di Enio, a Yana pesebre, e non so, pra me sornare con il mio mese, che non so preparato che va a Quota Enio, che qui ti come stavolgo, e c'è molto la pizzeria che fa parte. E il videoclip da me scusse, mi stavo parlando, che non si non c'è la televisione, non so, e mi scusse, un canto, ora che mi scusse, che mi scusse, ti conto molto storia, e mi accanto a poi comproviare il messaggio. Wow, ma sia bonita me è Davide e non mi servizia con il momento in cui mi immaginiamo tutti i nostri amici, i nostri amici, i nostri amici, mi immaginiamo come si senti e buonissimo ambiente qui di fin di anno, Lionel. Correctamente, Davide, per lo che c'è il CD con il 13 anni, quante cancioni di Bajelle? C'è il CD di due cancioni, una poesia di Pasqua, di cui è la poesia che è la mia propria inspirazione qui, senti una computer, ascoltando la musica, ando in letra navi, per con cec turcos fami, mio hombre controlla turcos, ando assine che non si ponere di CD. E un altro cancioni che ti chiamo? Veni a casa questa Navidad, però non avviamento, non passi Pasqua qui, non mi casa, è buon, in definita la temporada qui di agano su final, con il sentimento, con la preparazione per la ultima parte della temporada qui. La preparazione sta venendo buon, duchi, e mal con noi sta passando, è Pasqua, con la famiglia, non si trova più duchi che sei. E la nostra amistà sta sempre attraversa con noi, e buonissimo. Davide, mi voglio portare qui, vanna, e noi saco Efraini, la mia parella, molto pronto, entrando, la c'è matrimoniale, e Efraini è una persona con appoglia di Tour Samper. Conta a noi, Efraini, buonoci, come ti sentivo di talento, e sempre accompagnando Davide, per lo che ti tratta su talento musicale. E di un talento, Hopi, speciale, sta inspirando, Hopi, insieme, per la turma di editarmi, Hopi. Wow, excelente! E noi saco, Bolsonaro, sta preparando un'feccia, Hopi, speciale, e prossimamente, noi vogliamo un'feccia, Hopi, hopi, benissimo, e buonissimo, Paolo, e buonissimo. Grazie. Grazie, grazie. Grazie. E Davide, per il mercato, voi si che canta per noi, buonissimo, come sai che vuoi piacere, che vuoi piacere, che con noi vuoi piacere, il po' di Aruba, buonissimo? Lo che mi piace è questo pobolo di Aruba per andare tranquillo disfrutare Pascua qui abriamo contento di essere familiari Qualche circunstanza che ho e magari non ho comprensione penso un po' penso un po' e vorrei se vedi una per non portare Pascua qui junto con Bolsonaro e abriamo aia super e un'unione familiare e abriamo sempre la porta quando si arriva e presenta le canzioni e voglio entregar a Abo un regalo chiquito di parte di mia parella Efraim Oggi sono mio, un hombre e a me Ok, ok La produzione è Fito Cruz che sempre prepara per me trasferire Young e davanti a un reino che apoiarmi sempre Fito mi ti leggo un carino Paavo e seguire il vostro diretor Edmond Cruz che sempre per apoiar tutti i cantanti qui in Aruba e per me ti Bolsonaro in Paixi e il show qui in хл la e mi padre scogli parte qui per Dama Buonanotte, è un regalito per una buona produzione per essere a tutti i tuoi e per seguire il ilumine a voi per seguire il buon e buon Grazie a tutti, mi apprezzate di Daphne e Efraim di mio coraggio Grazie a Sandra per essere attraverso Wow, buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti